Cari amici, la notizia che mi ha colpito di più è che la Corte di Giustizia Europea ha deciso, che ha ordinato all'Italia, di incassare l'ICI, cioè le tasse sugli immobili, che la Chiesa Cattolica non ha pagato tra 2006 e 2011, avvalendosi di una deroga voluta dal governo Berlusconi. La deroga, secondo la Corte, è un aiuto di Stato e in quanto tale illegittima, perché avrebbe procurato un vantaggio alla Chiesa Cattolica in settori come le scuole paritarie, ad esempio. Non voglio entrare nel merito della sentenza e neanche rinvio un altro giorno il discorso sulle paritarie. Qui invece voglio proporre tre riflessioni molto brevi. La prima è questa. Ovviamente la Corte di Giustizia Europea è perfettamente legittima, ma a voi non sembra strano che sia la Corte di Giustizia Europea a decidere quelli che sono i rapporti fiscali tra noi e tra l'Italia e lo Stato Vaticano? A me sembra strano, perché questa faccenda riguarda solo il nostro territorio. Comunque, la seconda riflessione è questa. Questa notizia, insieme a tante altre, ci fa vedere in controluce quella che è, a mio avviso, l'ideologia dell'Unione Europea, che è un'ideologia dell'uguaglianza assoluta nel campo della cultura religione inclusa, cioè il cristianesimo è sullo stesso piano dell'Islam, dell'ebraismo, del confucianesimo, del buddismo e così via, e la nostra cultura che è figlia della Grecia e del cristianesimo, ed è una cultura liberale a cui siamo arrivati attraverso stragi in mani, è sullo stesso piano di culture illiberali come la cultura islamica, figlia del Corano. Questo multiculturalismo totale e pieno non ha funzionato, ci sono lì le stragi ordite, realizzate da immigrati di seconda generazione a dimostrarlo in maniera, credo, inequivocabile. Pensate anche a certi quartieri delle nostre città, uno può nascere parlando arabo o spagnolo e morire parlando arabo o spagnolo senza neppure imparare la lingua del paese che lo ospita. Ma cosa mettiamo al posto del multiculturalismo? A questo tema hanno pensato, su questo tema c'è la riflessione di un gruppo di intellettuali europei, tra cui Roger Scruton, Remy Braga e tanti altri, che hanno firmato, steso e firmato la dichiarazione di Parigi, un'Europa in cui possiamo credere. Vi leggo solo il sommario per farvi capire il contenuto di questo documento che potete leggere integralmente, vi lascio il link in fondo alla pagina, e qui si dice che le radici classiche incoraggiano l'eccellenza, che lo Stato-Nazione è un segno distintivo dell'Europa, che è cruciale il ruolo della famiglia e del cristianesimo. Insomma, cosa ci dicono? Ci dicono che il progetto dell'Unione Europea deve nascere spontaneamente da Stati-Nazione, che non vanno rinnegati perché sono parte della nostra storia, questo progetto non può che nascere intorno alle radici cristiane e classiche, che costituiscono la nostra identità. Ovviamente tutte le altre culture, tutte le altre religioni devono essere tollerate e devono essere uguali davanti alla legge, ma non dobbiamo però dimenticare da dove veniamo. La terza considerazione è sconsolante, cioè vi leggo gli stati dei firmatari del documento, da cui provengono i firmatari del documento. Germania, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Francia, Repubblica Ceca. Insomma, vengono da tutta Europa, Spagna, sapete l'unico paese che non è presente? Giusto, l'Italia. E questo per dire quanto è provinciale la nostra cultura. 50 e passa anni di egemonia culturale della sinistra hanno ridotto a brandelli la nostra cultura che non conta più una cicca.